Io quest'estate mi sono confrontata incredibilmente con decine di persone che non volevano vaccinarsi, che non si fidavano, cosa che peraltro ha messo in grande difficoltà la mia estate, perché io non ci voglio più stare in mezzo a persone non vaccinate, lo dico francamente. Quindi per dirle, cioè è qualcosa che sentiamo attorno a noi, dobbiamo fare autocritica? Voi come medici, forse anche noi, non li abbiamo convinti, non siamo stati sufficientemente chiari.